a causa della latenza della limitata risoluzione della camera e anche delle aberrazioni che introduce è impensabile chiedere al chirurgo di lavorare per tante ore con il paradigma video sitru vedendo il campo operatorio attraverso una camera sappiamo benissimo noi che il paradigma optical sitru è decisamente più confortevole per il chirurgo e per questo l'abbiamo inserito all'interno del sistema vostra il paradigma optical sitru introduce però delle problematiche percettive per l'utente per capirle bisogna considerare che col paradigma optical sitru abbiamo per ogni occhio un display sul quale possiamo proiettare un'immagine bidimensionale ora riferendoci al singolo occhio abbiamo quindi un'immagine virtuale che è bidimensionale mentre i raggi di luce che provengono dal mondo reale dal campo operatorio e attraversano il display possono essere considerati un campo di luce in particolare questo campo di luce è caratterizzato per ogni occhio per ogni display da un punto di vista geometrico da quattro dimensioni abbiamo le coordinate bidimensionali sul display poi due angoli quindi l'immagine virtuale è caratterizzata da due dimensioni quella virtuale da quattro dimensioni tralasciando gli aspetti cromatici questa incongruenza bidimensionale porta sicuramente dei dei pasticci delle problematiche percettive una di queste ad esempio è l'impossibilità di ottenere un allineamento perfetto a causa della parallasse tra l'occhio e il display che non ci permette di avere un allineamento perfetto ad esempio di una linea di taglio virtuale sulla posizione corretta e noi sappiamo che oggi col paradigma optical sitru otterremo e otteniamo degli errori nell'allineamento di questa linea di taglio ad esempio di 5 mm fino anche a fino anche al centimetro e per molte chirurgie è impensabile pensare di guidare il chirurgo con un errore con tali vitale entità e quindi nel nostro sistema quando necessario il chirurgo potrà passare al paradigma video sitru sicuramente meno confortevole ma più accurato in questo caso l'allineamento è più facile e più accurato e più robusto perché andiamo ad allineare l'immagine virtuale che come abbiamo detto è bidimensionale a un'immagine della camera che è anch'essa bidimensionale quindi possiamo allineare le cose pixel a pixel senza problematiche di incongruenza dimensionale